Siamo con Simone Billi, deputato della Lega eletto in Europa, oggi la presentazione di MyFood, questo festival del cibo italiano che siderà in Svizzera a Winterthur, vicino Zurigo, dal 16 al 18 giugno. Un modo per far conoscere le nostre eccellenze. Sì, molto importanti questo tipo di eventi, sia per la promozione del nostro Made in Italy e dei nostri prodotti tipici, sia per la comunità italiana per mantenere e rafforzare i contatti con la Madre Patria. Avete sentito durante la conferenza che la regione ospite di questo evento sarà appunto la Calabria, anche se ci saranno chiaramente prodotti tipici che provengono anche da altre regioni d'Italia. La Calabria però quest'anno sarà il centro e il fulcro di questa manifestazione, addirittura l'assessore all'agricoltura della regione Calabria ha dato il suo sostegno e sarà presente di persona sabato proprio durante questa manifestazione. E quindi questo è un ottimo modo anche per cercare di mantenere i contatti tra la comunità calabrese in Svizzera con la propria regione d'origine. Molto spesso infatti purtroppo ancora oggi si lamenta l'impossibilità o la difficoltà nel trovare prodotti tipici calabresi in Svizzera. Sembra impossibile che oggi nel 2023 possa succedere questo, però è vero che gli italiani e in particolare in questo caso i calabresi all'estero spesso hanno difficoltà a rintracciare i prodotti della loro terra d'origine. Quindi è un ottimo evento per rafforzare i legami anche enogastronomici con la propria regione in Italia.